E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e questo è Giochia Marablock E la regina del parkour Fereniki è tornata per cercare di continuare o completare, ma credo che sia impossibile, questo parkour infinito Esattamente, dai commenti, dalle views, dai likes, vi è piaciuta tantissimo questa mappa, noi siamo felici perché è davvero divertentissima Quindi oggi andiamo avanti, siamo al 70, quindi l'obiettivo per oggi, io te lo sparo proprio grosso, 200 Io volevo dire 100 per andarsi leggeri, tu mi spari 200, ma come, ma come, dai ci sto, ci sto Almeno, allora, obiettivo minimo 140-150, quindi almeno raddoppiare, considerando che i livelli saranno più difficili, comunque non sarà semplice Però obiettivo minimo quello, iniziamo subito perché se no questo video dura 45 minuti, via, andiamo Comunque, ci siamo vestiti a tema natalizio, rimarremo vestiti così fino a Natale, quindi questo sarà il nuovo look Ovviamente io sono un pirata natalizio e Ferinichi è semplicemente tutto a Natale E Ferinichi è semplicemente Ferinichi per il Natale, ok, ok Da notare che abbiamo i pantaloni uguali Eh sì, non abbiamo trovato grandi pantaloni natalizie, quindi ci siamo arrangiati un po' così Subito un livello difficile, devo dire, bisogna fare un po' di precisione Però è andato liscio, qua cosa succede, scusate? Che muoio, ecco che succede No, ma qua c'è qualcosa di strano Arrivo, arrivo Secondo me c'è una trappola Davvero non è nulla? Non ci posso credere E cos'era? Nulla? Nulla, una piattaforma gigante dove saltare Sembrano abbastanza distanti, stai attenta Eh sì, eh sì No, no, abbastanza semplice per fortuna Anche perché qua dobbiamo andare velocissimi Ok, allora, questo è un pochettino più complicato ma sembra fattibilissimo Ok Oh mamma mia, io li odio questi salti Ecco Ecco qua Precisione Sono accaduto a quello dopo proprio in modo stupidissimo Va bene così Andiamo Forza Ferinichi Più veloce Ok, ce la sto facendo Ti metto ansia Questo sembra semplice Tipo ta 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 No aspetta però eh Oh che rischio Mamma mia Mi fa cadere Mi fai Mi hai fatto cadere tu Ma non è Adesso ti butto giù dalla sedia Guarda Ringrazia che oggi ho il torcicollo Perché altrimenti mi sarei alzata Ti avrei buttato giù dalla sedia Ma non eri la regina del parkour? Sì, ma nel gioco Adesso io Cioè Fisicamente ho il torcicollo L'ho appena detto Ma le regine non hanno nessun dolore Mi hai fatto cadere tu Mi hai fatto cadere tu Quindi è stato molto sleale Molto sleale Mi dispiace Ma le regine non possono avere dolori È registrato Tutti hanno visto che mi hai fatto cadere No assolutamente no Guarda Sei scivolata da sola No 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 Come una papera C'era proprio il tuo corpo gigante in mezzo La regina delle papere No grazie No 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 Continuiamo Avevamo un po' di livelli abbastanza semplici Quindi siamo andati spediti Credo che vedrete quella parte velocizzata Così non vi perdete nulla Però al stesso tempo Non stiamo a commentare Cos'è super facile Per gente Oh mamma mia Si muove Cosa vuol dire si muove? Si muove la piattaforma Ti spinge verso destra Uh E adesso verso sinistra Mamma mia Ah E adesso non so verso dove Ma scherzi Uh Mamma mia Mi stavo lamentando Che era un troppo semplice E mi becco sta cosa che ti muove Troppa bravura Troppa bravura Ti spingo Bravissima Vino a risuola con me Sei brava solo a dire Ti strappo il maglioncino di Natale No E comunque ci vengo a dire una cosa Il maglioncino non si tocca Il mio è più carino Perché hai pupazzi di neve Le campanelline di alberelli Il tuo è semplicemente un maglioncino a rombi Scusami Di tutta la storia allora Chi l'ha scelto il tuo maglioncino? Io l'ho scelto L'ho scelto io Io l'ho scelto Io l'ho scelto L'ho scelto io quindi Allora no L'hai scelto perché io ti ho fatto vedere Una selezione molto accurata di maglioncini E quindi poi tu hai Mi hai detto che quello sarebbe stato Il più carino Ma li ho scelti io Vado avanti e non diciamo abbagionati Quindi diciamo che la parte più difficile L'ho fatta io Non l'hai fatta mica tu Assolutamente Questa è la fine di un livello a metà Bellino Oh che cosa strana Ecco Aspetta che arrivi No Aspettami Aspettami Lo facciamo insieme Aspettami Aspettami Sì sì Dove sei Io odio questa cosa Si è capito Vabbè l'ultima è più larga Sono arrivata Dai insieme 3 2 1 100 100 Dai ce ne mancano solo 560 Ho capito Ti spinge all'indietro E devi pure saltare Questo è geniale Questo è davvero bello Questo è davvero bello Aspettami Mamma mia Allora L'ultimo si salta Esatto Esatto Devi essere un po' Mamma Aiuto Poi arriva alla fine Che ci caschi Sotto Ok Questo è impegnativo Eh sì È stata una corsa Fatichesissima Proprio concentrazione Muscoli delle gambe E via Esatto Tutti Tutti gli episodi Che abbiamo fatto Sulle palestre Sono serviti per questo momento Tipo la palestra del tycoon Assolutamente È servito per questo momento Allora Ragioniamo un po' Quello è abbastanza semplice Questo Dove sono arrivato io Boh Non lo so Non lo so Quale Ok Bisogna Spontare un po' storti Mi raccomando salta E non provare a passarci in mezzo Sì sto saltando Saltate l'ho fatta Mi dava fastidio il blu con il rosso Sono dei colori strani Una scelta di colori particolari E di nuovo scelta dei colori Allora Sì Qui c'è la regina che sa tutto Il rosso è per forza È giallo L'ho detto di proposito Non appena si è caduta Non è giusto È di nuovo giallo Ma è come l'altro Che era giallo giallo E poi un'altra cosa Giallo 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 Questa volta Vabbè ma Ti avrebbe trollato malissimo Mia regina Sì 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 e purtroppo Tipo Steph che ti butta giù Non sono la regina dei troll Quindi non posso comprendere Aspetta Capito Eh Volevi Volevi barare Sì Volevi davvero cercare di barare Ma ti sembra Ma ti sembra la cosa giusta da fare In un parkour Mi sembrava un'ottima chance No No Eh già Eh già Si sta iniziando a fare sul serio ragazzi No Questo non mi piace Forza Steph Forza Steph Tu sai come fare queste cose Basta saltare l'aria fisso Comunque Che succede Ah è complicatissimo Eh no Ci sono morta Il vento mi ha trascinato Il vento Che cosa La forza motoria Mi ha trascinato Verso Eh sì Verso la morte L'abbiamo vista tutti Ma non mi hai dato quel checkpoint Perché si muove Oh mamma mia Si muovono Perché Si muovono Diverdentissimo quello Oh se ne inventa sempre diversi Almeno non lo rende monotono No No non l'abbiamo capito Bellissimo Ok Bellissimo Vado No ma come fai Come fai Mi hai fatto totalmente morire Pa 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 Vedi vedi che Allora credo di ovecce È strano È strano Ce l'ho Ce l'ho Vai Guardami Allora uno alla volta Uno alla volta Non la fai più Pa 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 Step vince sempre Ok Ti stanno mettendo in difficoltà Forza Bravissima Togliti Senti Sgraziato Me l'hai fatto sparire tu Si Ti devo uccidere Dovrei morire Ciao Regina Dovrei morire Ci vediamo dopo Ma dai Guarda le cose che mi fa Hai rischiato molto Cioè io all'ultimo Non so come sono appare Oh mamma mia Che c'è Scompaiono pure questi Dopo averli fatti tutti Mi sono ritrovata senza blocco Non me ne ero accorta Perché scompaiono più lentamente Capito Sì infatti pensavo Se tutto ok Dicevo vabbè Facile facile E invece Scompaiono Quindi mi devo muovere Stai divertendo? Non dovevi dirmelo Che scompaiono Ti stai divertendo? Non dovevi dirmelo Ti ti è divertendo tantissimo? Sì Bravo Mi sono suicidato Ma non mi passa la pena L'ho vista la scena Infatti ho detto No non ci credo Non ci voglio credere Sono disgraziato A Natale siamo tutti più buoni Sì Soprattutto tu No questi si muovono Ah sì? Sì ti spingono Però in un modo strano Non capisco neanche Che direzione utilizzate Soprò avanti Ma solo alla fine Vero? Sì Vada mia regina Ci faccia vedere Qual è il colore giusto Ah stavolta è giallo Per forza Blu Ci siamo passati A salto di precisione Ma pure alto Oh questi pure No non mi piacciono Ok dai Ti dirò Ti dirò Pensavo fosse più difficile Sì Ok meno male Non di nuovo No questo non mi piace Ok Se non fai qualche saltello in mezzo Non c'è il brivido qua E il punto è che non ci riesco Quei salti Perché cado Oh no Perché non le voglio fare di fretta E adesso No Già Non devi premere space Ok Devi lasciarti a rimbalzare Quando stai saltando Eh vabbè Ma l'hai visto che non sono caduta Già Ci ho camminato dritta Quindi che vuol dire Ma si può cadere Ok Io mi sono ammazzato per controllare Abbiamo fatto il bug della vita Guarda che ce ne mancano soltanto 13 Per fare i 150 Tantamiti Ah bene 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 Pensavo fossimo messi peggio Pensavo fossimo messi peggio Infatti velocissimi walk dice Walk Quindi cammina E noi camminiamo Walk Walk Sta succedendo qualcosa No Walk Che succede? Ci prendi in giro? Niente Occhio che questo è difficile Ecco Stano Strano Ma l'aspettavo un po' più semplice Eh no Sono distanti E sono anche piccoli Quindi Proprio nulla di semplice Siamo al 140 Ne mancano soltanto 10 Forza forza Uh che bella rampicata Che dobbiamo fare adesso Ok Scalata giusto? Sì Solo che sbatti la testa Anche di sopra Eh sì Fatta apposta Per farti cascare Giustamente Non è proprio simpatico Stai attenta E infatti E infatti E perché sbatti? Cioè come fai a regolare il salto? Come fai? Qua basta camminare Perfetto Ah ok Seguirò sicuramente il tuo consiglio Perfetto Cioè Ti giuro Nei primi camminavi A un certo punto Ce n'è uno più distante Per fregati Fatta apposta Ne mancano solo 7 Oh mamma mia Ma guarda qua No questo no Ok Ma si potrà fare camminando? Non credo No Sinceramente Magari pensavo ti aggrappi ai cubi Non avevi proprio voglia di farli saltando? No no Assolutamente perché quando sono così piccoli Non è che mi piacciono Sopra o sotto? Ok sotto Mamma mia che rischio Cioè stiamo scherzando? Stiamo scherzando Adesso Qui Ok Anche il prossimo ti piacerà moltissimo No questo è difficilissimo Io lo dico Questo è difficilissimo E ma anche questo qua Poi è un po' fastidioso È impossibile Oh povera Ferenichi 146 Dai che cosa stiamo facendo? Di precisio Ma io Io ho toccato e sono morto E non sono morto Tu hai toccato e sei morta Sì boh vabbè Ogni tanto penso che si bug Lo ringrazio È stato gentilissimo Perché ero totalmente morto Sai vabbè ma Dobbiamo andare sempre più in alto? Stiamo scherzando Vabbè sì Vabbè sì Vabbè forza Faremo anche Cosa stavi guardando? Non ti ho capito Il 151 Il 151 è bellissimo Quindi lo facciamo al volo Perché dobbiamo assolutamente provarlo Ok Ok 150 Andato Guarda Ah ecco cosa intendevi Oh mamma mia Cioè è impossibile È impossibile Io lo provo Ok Devi ricordarti semplicemente dove sono Capito? Ah Ok Eh immaginavo fosse così Dai sì Devi ricordarti dove sono In che direzione andare Ma allora è facilissimo No io l'ho fatto tutto saltando Dovevi cambiare direzione all'ultimo Quindi è stato Facilissimo Abbastanza emozionante Abbastanza emozionante E qua invece secondo me scompaiono proprio Vieni 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 Raggiungimi Che ci divertiamo No Vai 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 Corri finché ci sono Attento Corri finché ci sono Divertentissimi Belli questi Belli belli Molto E adesso c'è una serpentina infinita Eh vabbè Scusami eh Togliamocela che non voglio iniziare il prossimo episodio con la serpentina No assolutamente Sinceramente Che ci viene già il nervoso Non appena iniziamo Eh Dobbiamo iniziare con il buon umore il prossimo episodio Comunque 150 di 600 Quindi siamo più o meno a un quarto Non proprio matematico Però siamo quasi a un quarto Che non è sinceramente per niente male No infatti Stiamo andando bene I livelli sono davvero divertentissimi Questa mappa è meravigliosa Perché cambia costantemente Quello che ti fa fare Che è la cosa più bella Non rimane monotono Sulle stesse sempre cose Che bellissimo Sulle stesse sempre cose Stesse sempre cose Mi è piaciuto Sì Magari qualche livello Lo faremo anche in live Non dico adesso questo Fino al 300 Brava Però poi magari più in là Per non farci 10 video Su sta mappa Ma sai che forse Prima di fare il terzo episodio Facciamo proprio una live Sì sarebbe carino Così andiamo un bel po' avanti Anche perché Ho notato che si sono uniti Tanti consolini Lo vedo qua dai nomi Sì Perché ovviamente non li vediamo E comunque si stanno divertendo tutti Quindi se ce lo giochiamo Per tutti assieme in live Secondo me sarebbe davvero carina Fatteci sapere nei commenti Se volete vedere questa mappa Continuare Se la vorreste vedere Appunto in live E ci fermiamo così Beh ragazzi Se vi è lasciato il video Sentici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare Lì di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao